ciao amici sapete che possiamo proteggere i nostri occhi con l'alimentazione non ci facciamo caso ma gli occhi sono una delle parti del corpo più delicate ed esposte hai ragione mi tocca vedere certe cose a volte parlo di agenti esterni come inquinanti pioggia raggi uv a lungo andare causano un danno ossidativo agli occhi possiamo proteggerli con gli occhiali da sole ma anche soprattutto con la dieta vediamo insieme i 10 alimenti per la salute e protezione degli occhi se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 carote le carote salgono al primo posto sul podio degli alimenti salva occhi contengono una vitamina il beta carotene che protegge dal danno ossidativo 50 grammi di carote forniscono il doppio del fabbisogno giornaliero di questa vitamina 2 bietole anche le bietole sono una fonte di beta carotene inoltre contengono vitamina a e altri ossidanti e minerali preziosi l'ideale è consumarle crude perché il processo di cottura riduce i nutrienti 3 spinaci gli spinaci sono le verdure con più luteina alleata e amica della retina non solo la protegge ma le dona anche un effetto ringiovanente 4 cicoria anche la cicoria contiene luteina oltre a carotenoidi e altri antiossidanti come per le bietole vi consiglio di consumarla cruda per i nutrienti 5 peperoni i peperoni proteggono gli occhi grazie al loro contenuto vitaminico vitamina a c e vitamina e e altri antiossidanti retinici 6 pesce azzurro i preziosi alleati della retina nel pesce azzurro sono gli acidi grassi omega 3 7 cavoli i cavoli contengono nutrienti salvaocchi come luteina zeaxantina e xantofille le loro proprietà proteggi vista aumentano se associati con verdure giallo arancio 8 olio extravergine di oliva gli elementi vincenti dell'olio di oliva per gli occhi sono vitamina e e idrossi tirosolo 9 albicocche le albicocche sono efficaci per proteggere la vista per il loro contenuto nutritivo al primo posto vitamina a e c più altri preziosi numerosi antiossidanti 10 mirtilli e frutta rossa l'azione antiossidante dei mirtilli e della frutta rossa è dovuta alle antocianine che proteggono anche le strutture vascolari dell'occhio avete visto amici è possibile proteggere gli occhi con questi 10 cibi sani per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali